ciao a tutti amici in questo tutorial vedremo tutti i metodi di montaggio in da vinci resolve cioè parlo del trim mode slip and slide ripple roll cioè tutte le modalità che abbiamo per evitare le clip perché questo video questo video è dedicato ai neofiti ma è magari anche un ripasso per chi utilizza già da vinci resolve perché alle volte ci si può anche confondere con i nomi conoscendo benissimo magari quella modalità di edit andiamo a vedere allora quali sono queste possibilità qui in alto troviamo questi due metodi uno è selection mode e l'altro è il trim mode il selection mode è indicato con una freccia cursore e si può richiamare questa icona con lo shortcut a questo shortcut lascerà come vedete un cursore normale e con questo sono possibili e operazioni di base sulle clip ma vediamo quali sono ad esempio possiamo selezionare una clip o più clip possiamo spostare una clip qui iniziamo già a vedere alcuni particolari se io sposto una clip e la lascio sopra ad un'altra e la lascio pulsante ovviamente lo sposto tasto sinistro mouse e drag and drop questa clip che viene spostata sovrascriverà l'altra quindi vedete qua lascia un buco ma nel momento io dovessi tornare indietro questo buco resterà davanti perché è andato a tagliare questa mia clip in questo metodo di selezione nel selection mode non ho l'opportunità di spostare le clip senza lasciare buchi stessa cosa se io la porto sulla clip prima vedete che la va a tagliare e quindi se mi sposto io ho creato due buchi non c'è nessuno spostamento sulle clip in timeline quindi spostando una clip a destra o sinistra ovviamente rilasciando andrò a sovrascrivere quei pezzi come possiamo vedere adesso io annullo con ctrl z per ritornare alla situazione iniziale un'altra cosa che vediamo è lo stesso nel momento che andiamo a trimmare una clip cioè trim vedete che il cursore qui cambia aspetto e indica che io prenderò questo lato della clip cioè il lato uscente di questa clip lo posso trascinare indietro sempre con drag and drop e vedete che anche in questo caso questa clip viene tagliata quindi la vado ad accorciare però resta questo buco se la clip fosse questa come dimensioni e l'andassi ad allungare farebbe la stessa cosa di prima cioè sovrascriverebbe questa se infatti torno indietro vedete che ha lasciato il buco stessa cosa ovviamente se ci fosse il margine da questa parte andassi sovrascrivere questa zona adesso qui sono tutte prese dall'inizio come vedete una cosa in cui bisogna fare attenzione prendiamo questa che ha margine io faccio così vedete che sovrascrivo questa e nel momento che torno indietro o il buco ovviamente la stessa cosa succederebbe con più clip spostandole come vedete andrebbero sovrascrivere e non avremo più parti del montaggio un'altra possibilità in selection mode invece è il roll compare questo nuovo cursore che indica che la clip può essere trascinata inizio fine più in qua e più in là si chiama roll perché è come un rotolo e infatti se facciamo questa operazione vediamo che spostiamo il punto di fine punto inizio contemporaneamente in questa modalità in selection mode possiamo ottenere un roll edit diciamo normale nel senso che questo non va a spostare altri punti della timeline possiamo agire su punti interni sempre che ovviamente ci sia materiale qui vedete non c'è materiale da vinci ce lo segnala con queste linee rosse in altri casi come ecco ad esempio qui c'è materiale verso questa parte vedete quando arriviamo alla fine segna rosso perché quella che finisce lì all'interno possiamo spostare tranquillamente questi punti senza modificare la durata totale del nostro montaggio quindi possiamo fare anche un resize della clip stessa cioè resize come durata della clip vedete che la clip se clicco vedo quel rettangolo bianco che indica la durata totale della mia clip e quindi la posso ridimensionare così allungandola ma a scapito delle altre che vengono mangiate però anche in questo caso non vado a toccare il montaggio diciamo lo tocco solo nel momento in cui accorcio e mi resterà un buco da colmare un'altra prerogativa del selection mode è che se io faccio un drag and drop così e vado a fare una multiselezione la multiselezione coinvolgerà le clip cioè la multiselezione nel selection mode va semplicemente a selezionare le clip che che vengono evidenziate vedete quindi col selection mode posso selezionare le clip che desidero passiamo ora al trim mode che si ottiene cliccando questa icona o utilizzando lo shortcut da tastiera T clicchiamo per entrare in trim mode e vediamo un comando che si comporta in maniera simile il roll se prendiamo una clip così due clip a metà vedete il cursore si trasforma come nel caso del selection mode nel nostro roll e possiamo spostare i punti di inizio e fine delle nostre clip vedete come potete vedere il nostro viewer si trasforma sempre per mostrarci l'ultimo frame della clip uscente e il primo frame della clip entrante lo vediamo qua dove c'è ad esempio questa intervista della donna e qui la donna sta lavorando se prendiamo qua in mezzo vedete che ci fa vedere l'ultimo frame della clip dell'intervista e il primo frame della clip dove la donna lavora questo ci aiuta vedete a posizionare il nostro roll dove desideriamo ad esempio se io voglio partire con la clip entrante da qua dove appoggia il vetro so che uscirò con l'altra quando il braccio vedete la pinza si toglie e anche il vetro per saldare si sposta e qui invece entrerò così vediamo se è vero tac avete visto esattamente dove abbiamo indicato noi che differenza c'è quindi nel trim mode sul roll la differenza è che mentre nel selection mode andando a fare una multiselezione selezioniamo le clip nel trim mode andando a fare una multiselezione selezioniamo i punti di edit fra le clip vedete che non sono state selezionate le clip ma appunto tutti i punti cosa succede? succede che facendo un trim andremo a facendo un roll potremo farlo in più punti faccio roll e come vedete sto spostando tutti i miei punti quindi la durata di questa e questa clip resteranno inalterate le sto solo facendo scivolare a sinistra e destra nel mio montaggio ovviamente tagliando questa e prendendo prima questa e questa può essere una funzione di roll per spostare sia i punti in entrata che di uscita di una clip un altro metodo di edit che possiamo trovare in trim mode è lo slip and slide praticamente lo slip è uno slittamento lento mentre slide è un scivolare rapido vediamo come si ottiene questo metodo pratica su una clip se ci posizioniamo a metà della clip avremo lo slip posso far scivolare all'interno dei punti in out in materiale della mia clip vedete per scegliere una zona diversa all'interno della mia clip e vediamo qua in alto il monitor si divide in quattro per farci vedere lo vediamo ancora una volta con la clip dove lavora la donna clicco lo faccio scivolare e vediamo lei che lavora in alto vediamo il primo suo frame dove entra e a destra in alto abbiamo il frame dove esce la nostra clip di sinistra quella che precedeva la nostra clip e in basso a destra abbiamo la clip il primo frame della clip che entrante cioè che segue la nostra clip della lavorazione alla ragazza vedete che spostando scegliamo un altro punto della lavorazione ad esempio voglio cominciare da qua dove si sposta col soffiare il vetro verso destra e quindi la vado a posizionare qua sapendo essendo conscio che uscirà lì andiamo a vedere e eccolo qua invece se il cursore è posizionato nella parte bassa della clip vedete in centro è rappresentato da queste frecce queste parentesi qui invece le frecce sono esterne alla parentesi diciamo che la parentesi rappresenta la clip quindi qui dice che le frecce si muovono in interna della mia clip quindi mio materiale si muove all'interno della mia clip qui invece con lo slide il materiale fa muovere la mia clip rispetto alle altre clip nel montaggio quindi faremo scivolare questa clip vedete a sinistra e a destra attenzione che ovviamente in questo caso andremo a sovrascrivere questo materiale e andremo a prendere più di questo materiale a differenza del selection mode che abbiamo visto prima questo metodo non lascia buchi vedete va va a colmare i gap quindi un metodo per spostare una clip senza lasciare buchi però ricordiamoci che stiamo prendendo più materiale qua e togliendone qua o viceversa volevo ricordare che quando facciamo una multi sezione così per eseguire il roll vediamo che sono evidenziate i tagli dell'edit sia a destra che a sinistra e quindi effettuando così avremo appunto il roll di entrambe le parti premendo lo shortcut u decidiamo su queste multiselezione cosa vogliamo prendere quindi con una pressione di u vedete prendiamo solo l'ingresso del clip di destra ripremendolo prendiamo solo l'uscita della clip di sinistra e ripremendolo prendiamo entrambi i tagli facendo così e procedendo con il trim vedete cosa succede andiamo a trimare tutte le clip in ugual modo senza lasciar buchi sulla destra facciamo così premiamo u e lo facciamo sulle clip uscenti diciamo le altre le altre clip selezionate se ripremiamo u lo facciamo su entrambi i lati della clip in trim mod possiamo fare il ripple il resize che cosa fa prendendo solo una parte vedete che avvicinandosi alla fine del nostro clip il cursore si trasforma ma quando andiamo a ridimensionare fare il resize della clip non avremo il buco ci trascieremo dietro tutto il montaggio quindi stiamo variando la durata della nostra clip senza variare le altre ma non lasciando buchi stessa cosa ovviamente in ingresso andremo vedete a variare questa clip cioè accorciarla in ingresso senza toccare la durata delle altre clip e senza lasciare buchi che vengono automaticamente colmati esistono anche altre due modalità di montaggio e si ottengono in dynamic mode il dynamic mode è quest'altra icona cliccando la vediamo che la nostra playhead diventa gialla e qui se prendiamo qui con tasto destro vediamo che abbiamo slip o slide una volta attivato con w abbiamo questi due metodi slip o slide che si ottengono semplicemente premendo s si passa da un modo all'altro oppure cliccando con tasto destro e cliccando poi con tasto sinistro sul metodo che vogliamo vedete che otteniamo la stessa cosa del cambio icona cosa significa significa che in questa modalità di edit possiamo eseguire il taglio non trascinando il cursore ma possiamo effettuare tutti gli edi che abbiamo visto finora ad esempio se vogliamo accorciare la nostra clip qui all'inizio selezioniamo questa zona qui clicchiamo vedete abbiamo selezionato in verde la zona di ingresso della clip e andiamo ad aggiustare il nostro montaggio utilizzando i tasti j k l dove j sta per sinistra k k k sta per stop e l sta per destra sapendo che abbiamo un play o un rewind veloce quante volte premiamo il tasto quindi diciamo che possiamo fare un edit al volo se io infatti premo l vedremo che la mia clip si mangia fin tanto che il video va in play se premo j la mia clip ritorna fin tanto che il video va in play possiamo se questo metodo è troppo veloce utilizzare anche i tasti assieme in associazione ad esempio k l ci farà procedere di un frame alla volta con questo sistema possiamo effettuare appunto come detto tutto il montaggio che abbiamo visto finora ad esempio un roll vado a selezionare entrambi i lati premo k ed l e vedete che sposto il mio roll in avanti gay e j lo sposto indietro e ovviamente posso farlo anche con l velocemente o con j velocemente questo sempre nell'idea di vedere in play il nostro video e decidere anche al volo dove fermare stessa cosa di prima possiamo avere lo slip and slide mode sempre in dynamic mode selezionando la clip in centro premendo j come vedete la facciamo scivolare perché abbiamo selezionato la parte alta se selezioniamo la parte bassa possiamo farla scorrere come facevamo prima però utilizzando i tasti jk l questa è la grande differenza nel dynamic mode per andare meglio a passare tra lo slip e lo slide appunto possiamo utilizzare s vedete che cambia il disegno alle frecce come prima all'interno delle parentesi quadre e questo indicherà che cambierà il materiale all'interno del nostro clip ok j vedete invece abbiamo le parentesi quadre interne le frecce esterne per indicare che la nostra clip che si sposta e vedete infatti che è così sempre tra questi quattro comandi dedicati all'edit troviamo anche il raso cioè la lametta che si può ottenere premendo lo shortcut di il raso è questa lametta che ci permette di vedere il tempo sulla timeline vedete affiancato alla lametta e quindi ci portiamo ogni cursore nel punto desiderato e creiamo un taglio a cosa può servire avere una clip divisa in due come in questo caso se è continua tant'è che da vinci ci andrà a indicare con questo tratteggio che si tratta della stessa clip per indicare che abbiamo eseguito un taglio ma la clip è consecutiva però questa possibilità di avere la stessa clip spezzata in due può essere utile ad esempio per inviare solo questa per un'elaborazione a fusion quindi solo la prima parte della clip sarà inviata a fusion dove potremmo inserire qualsiasi effetto oppure un'altra idea è quella di inviarla alla color dove ad esempio possiamo fare anche qui qualsiasi altro effetto ad esempio io la vado a desaturare e tornando nella edit avrò la prima parte desaturata e la seconda parte a colori mi basterà ad esempio inserire una dissolvenza per avere un passaggio dal bianco nero al colore questo ovviamente è solo un esempio del perché potrebbe servirmi tagliare una clip in più parti potrei ovviamente sempre con la lametta farlo in 3 4 5 parti per appunto avere ulteriori effetti ad esempio qui io vado a inserire una digital video f e vado a compiere una rotazione sull'asse x e zoomare la mia clip e riposizionarla per avere un effetto particolare e ecco qua solo quel pezzo di clip sarà interessato dal mio effetto un'ultima cosa che voglio aggiungere ovviamente che in selection mode se noi andiamo a creare un buco cioè io questa clip la vado a cancellare con backspace il buco resterà se io voglio cancellare questa clip e chiudere il gap posso farlo con delete e come avete visto il buco il gap verrà cancellata la clip e chiuso il buco altrimenti possiamo farlo cancellando la clip selezionando il buco tasto sinistro tasto destro ripple delete bene spero che questo mio video possa tornarvi utile mi raccomando mettete un like se il video vi è piaciuto e continuate a seguire i miei tutorial su DaVinci Resolve ciao alla prossima Grazie a tutti